La discriminazione previdenziale è un fenomeno dilagante in Italia e un problema di fronte al quale non si può tacere. Da qui è nata la nuova inchiesta di Mario Giordano, che sabato 22 aprile è stato all'auditorium della Biblioteca Comunale di Valdobbiadene. Il direttore del TG4, guidato dalle domande della giornalista Adriana Rasera, ha affrontato il tema dei vitalizi e delle pensioni d'oro, oggetto del suo ultimo libro Vampiri. Ci sono i politici, ci sono i banchieri, c'è il signor Mauro Sentinelli con i 90.000 euro. Dai politici ai banchieri, dai giornalisti a coloro che percepiscono la pensione di parenti defunti. La casta di coloro che vivono sulle spalle del resto del paese è veramente ampia. Ma come si può risolvere la sindrome del vampiro? La soluzione, sottolinea Giordano, è nel mal di fegato dei cittadini, perché è dalla loro indignazione che negli ultimi anni si sono potuti compiere i primi, seppur lenti, passi verso la riduzione dei vitalizi.